Musica Questa è un'edizione speciale perché non abbiamo mai avuto così tanti iscritti come quest'anno e per me è un grande piacere aprire i lavori della sesta edizione del Mix Musica 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 Grazie a tutti Sono io che ringrazio tutta la facoli, tutti i relatori, i moderatori perché questa è stata l'edizione forse migliore che abbiamo mai avuto di queste sei non solo per la partecipazione ma proprio anche per il clima che si è creato hanno contribuito a questa edizione dei grandi della cardiochirurgia italiana e internazionale Grazie ancora e arrivederci al prossimo Mix del 2026